mamma mia queste sono le grandi navi che è il problema venese grandi navi questa non è delle navi in passaggio è di quel battello là adesso vi faccio vedere le onde della nave qual è Dio Graia eccole qua e questa è un'altra onda di un altro battello è un'altra onda di un altro battello guardate un detti che fa per battello là guardate 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 Grazie a tutti